A vitro cambio Moro, 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 vai a sinistra 4-4 4-4 Arco, Moro, Moro Perù, Perù, Perù bravo bianco bravo Nicola bravo dai lo dai lo forse recupera vai lui aiaiaiaia che sfortuna fulmina vete 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 ha segnato il bomber da Mario giusto bravo Dario bravo bravo pareggio pareggio della Virtus Castelfrentano meritato pareggio se non erro mister Gabri bravo il nostro bomber da Mario rete rete vai 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 Grazie.